Mezzeluna al formaggio senza glutine e senza lattosio, ecco dei panini buonissimi, soffici, panini al latte, ripieni di formaggio filante, facilissimi da preparare, in circa 3 ore saranno pronti. Sono la versione senza glutine di alcuni panini turchi che si chiamano poaccia, che ho visto su un canale Instagram, nel mio post blog vi metterò tutti i riferimenti, e che ho voluto rendere senza glutine e devo dire la cosa mi è riuscita piuttosto bene. Seguitemi in cucina e vediamo come li ho preparati. Ho fatto sciogliere il lievito fresco, il lievito di birra fresco nel latte, questo è un latte senza lattosio, ho mescolato bene e bene e l'ho versato nella ciotola della planetaria insieme all'olio e al mix senza glutine adatto per il latte. Qui sotto in info box vi indicherò esattamente quale miscela ho utilizzato, ho aggiunto il miele e poi ho iniziato ad impastare con l'accessorio gancio per circa 4 o 5 minuti, staccando di tanto in tanto l'impasto dal bordo della ciotola e anche dal gancio e ribaltandolo, in maniera tale da amalgamare bene tutti gli ingredienti. Al posto del latte senza lattosio potete utilizzare una bevanda a base di soia o comunque a base vegetale che non sia però esageratamente dolce, anche il latte di mandorle potrebbe andare bene, l'importante è che non sia troppo zuccherata, se mai lo fosse rinunciate al miele che abbiamo aggiunto in questa ricetta. Dopo 4 o 5 minuti ho aggiunto il sale e ho continuato ad impastare per altri 5 o 6 minuti, l'impasto deve risultare liscio, senza grumi, deve incorporare aria anche se comunque sarà appiccicoso almeno nelle prime fasi. Ho terminato l'impasto, ho unto, in questo caso è un foglio da cottura riutilizzabile, ma potete utilizzare la spianatoio, un silpat della carta da forno comune, quello che avete. Ho unto quindi questo foglio, mi sono unta le mani, ho formato una palla di impasto piuttosto regolare, l'ho coperta con la ciotola a capovolta e l'ho lasciata riposare per circa 30 minuti. Vedrete che trascorsi 30 minuti l'impasto sarà perfettamente manipolabile e non è più appiccicoso. Trascorsi 30 minuti di riposo ho pesato la pasta, in questo caso erano 490 grammi, e li ho divisi in 7 porzioni da 70 grammi l'uno. Ho lavorato ogni porzione a formare delle palline lisce. Poi ho asseso ogni pallina piattendo un mattarello. Grazie. 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 Ho messo il formaggio rapè a un'estremità di questo disco. Io ho passato il formaggio nei fori più larghi di una grattugia. Faccio di solito così il mio formaggio rapè. Ho utilizzato dell'emmental immischiato e della scamorza affumicata, ma potete utilizzare qualunque formaggio abbiate, tranne la mozzarella che purtroppo rilascia liquido in cottura e quindi è meglio evitarlo. Fatto questo ho ribaltato l'impasto sopra il formaggio. Ho chiuso bene bene, anche se poi comunque in cottura un pochettino esce, perché probabilmente ne ho messo troppo. Nella parte rimanente ho fatto delle incisioni. Ho utilizzato il tarocco, ma potete utilizzare anche la rotellina, quella tagliapasta. L'importante è incidere solo nella parte centrale e non da parte a parte. Poi ho arrotolato il paninello, l'ho incurvato a mezzaluna, ho premuto bene sull'estremità in maniera tale che si sigillassero. Se i tagli non sono ben netti, passiamo il tarocco o comunque la rotellina per marcarli ulteriormente, perché poi fa un bel effetto quando si cuociono e si allargano ed è un bel effetto visivo. Vedete? Molto carino, molto carino da vedere. Poi nella parte sotto, dove c'è l'aggiuntura dei due pezzi di pasta, basta premere leggermente per farlo sigillare. E si continua allo stesso modo per tutte le porzioni. Man mano che le ho preparate, le ho sistemate su una teglia coperta di carta da forno, distanziandole leggermente. Grazie. 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 queste mezzelune con l'uovo battuto poi si mettono nel forno spento se volete con la sola lucina accesa ma da me faceva già abbastanza caldo quindi non mi serviva aumentare la temperatura e si lasciano lievitare quasi fino al raddoppio dopo il tempo di riposo i panini si presentano in questa maniera li vedete sono lievitati ma non esageratamente lievitati a questo punto li ho pennellati una seconda volta con l'uovo e ho spolverato con del sesamo ma è facostativo potete utilizzare il sesamo, i semi di papavero o non utilizzare nulla a quel punto li ho infornati a 200 gradi in modalità statica per circa 18-20 minuti se dopo 18 minuti vedete che sono ancora un po' bianchici nel vostro forno perché ogni forno funziona a modo proprio allora basta attivare per un paio di minutini finali la ventilazione fino a coloritura una volta cotti li ho fatti leggermente raffreddare e li ho gustati sono veramente sofficissimi, molto buoni difficile capire che siano senza glutine è impressionante la resa di questa miscela se cambiate miscela attenzione a livello di idratazione perché non tutte le miscele sono uguali ma nel mio post blog vi darò eventuali consigli per le sostituzioni bene la ricetta semplicissima è finita se vi è piaciuta lasciatemi un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine grazie per il supporto che così darete al mio canale e alla prossima ricetta gluten free ciao